Buongiorno ragazzi, siamo a pagina 578 del vostro libro. Vi ricordate la volta scorsa abbiamo guardato la chanson de Roland e abbiamo fatto l'introduzione. Adesso il nostro testo ci propone la vita di Carlo Magno, opera di Eginardo, e il racconto dell'episodio centrale della chanson. Lo leggiamo. Mentre l'esercito marciava in lunga schiera, come permetteva l'asperità e la strettezza del passaggio, i guasconi, allora, per quanto riguarda le note, avete la nota, sono gli abitanti della Guasconia, regione della Francia sud-ovest, qui da intendersi però come gli abitanti delle zone dei Pirenei di origine vasca, posti agguati sulla cima delle montagne, attaccando dall'alto la retroguardia che copriva il cammino di coloro che precedevano e l'estrema parte dei rifornimenti li schiacciano nella valle di sotto, li uccidono fino all'ultimo uomo, e rapinati i rifornimenti, col beneficio della notte che ormai si avvicinava, si disperdono chi qua e chi là a grande velocità. In questa battaglia furono uccisi Egardo, sovrintendente della mensa del re, Anselmo, conte Palatino, vi ricordate, poi Paladini, e Ruotlando, prefetto della marca di confine britannica, con molti altri. Quest'azione non si poteva indicare fino ai giorni nostri, perché il nemico, compiuta l'impresa, si disperse, così che di loro non rimase neanche la notizia presso quale popolazione si potessero cercare. Bene, allora, adesso invece abbiamo, scusate ma è veramente lento, allora qui abbiamo un brano tratto dalla chanson, guardate, né l'asse, quindi la stanza, che sono, queste stanze sono assonanzate, abbiamo detto, ecco abbiamo, scusate ce l'avevamo prima, ecco lo schema, lo schema metrico, decassillabi, scusate, forse l'altra volta avevo detto endecassillabi, no, dieci sillabe assonanzati, e la struttura ritmica è caratterizzata da una parziale coincidenza di suoni tra le sillabe finali dei versi, che presentano vocali uguali, ma consonanti differenti, guardate qui, allora naturalmente questo è il provenzale, per cui la pronuncia non è sicuramente questa, io non la conosco. Allora, fatto questa introduzione metrica, vediamo che siamo alla 50, 60, 70, 80, 81, quindi la 81esima lassa, cui abbiamo il testo in lingua d'Oil, e la versione in francese moderno. Allora, vedete, qui abbiamo Oliver Sest de Surum Quis Montes, Orveit il Ben de Spagna, le Regnette. Allora, la lingua d'Oil, abbiamo detto che è, come dire, l'antenata, la lingua antenata del francese moderno, per cui, vedete, Olivier est monté sur une colline élevé, scusate la mia pronuncia, io non ho studiato il francese, quindi vedete che ci sono sicuramente dei legami, è rimasto, perché, appunto, comunque la lingua d'Oil è una lingua che deriva dal latino, neolatina, come il francese moderno. L'altra lingua, quindi, scusate, questa viene parlata nel nord, veniva parlata nel nord della Francia, oggi viene parlata in tutta la Francia. Nella Francia del Sud, invece, ai tempi si parlava il provenzale, l'occitanico, la lingua d'Oc, spero sia tutto chiaro. Qui, invece, abbiamo la traduzione in italiano e, naturalmente, noi a quella dobbiamo fare affidamento. Allora, cominciamo a leggere, poi, man mano, commentiamo. Non finisco la stanza, perché devo girare pagina. Allora, cominciamo col dire che, appunto, questo guerriero, Oliviero, è sopra un poggio, quindi sopra un colle, in modo tale da poter, da questo colle, vedere il regno di Spagna. E, guardate qui l'inversione, le schiere sterminate dei pagani, perché, vi ricordate, abbiamo detto che il La Chanson racconta questo episodio del 778, in cui, realmente è accaduto, in cui muore Rolando o Orlando e è ferito, appunto, e poi è morto, a questo, su questo passo a Roncisvalne, sui Pirenei. Quindi, è da qui che Oliviero guarda la terra di Spagna e vede queste schiere sterminate di pagani. Allora, precisiamo ancora una volta che nella realtà non erano i Saraceni, questa schiera di pagani, ma erano i Baschi. Quindi, c'è un mutamento, perché nel periodo in cui, 1100, la chanson viene composta, meglio, viene alla luce, perché probabilmente era stata composta oralmente già parecchio tempo prima, viene messa per iscritto da questo Turoldo, che probabilmente è il copista o il giullare che la recita, oppure, secondo alcuni, davvero l'autore. Ecco, dicevo, diventa in questi tempi un motivo di spinta per le crociate che si stanno pensando. Diventa quindi un evento, questo qua, simbolico, leggendario, e Orlando Rolando diventa un eroe indimenticabile, il quale muore per gli ideali in cui crede, cioè la fede cristiana, la lealtà verso il proprio sovrano e la terra di Francia, il proprio onore, il proprio valore di guerriero. Quindi, vedete che sono già delineati quelle che sono le caratteristiche del cavaliere e, in particolare, del cavaliere cristiano. Ecco, avevamo terminato prima dicendo splendono gli elmi d'oro e di gemme ornati. Ecco, adesso guardate, abbiamo gli scudi e spiedi e usberghi ricamati. Ecco, sono tutte le armi, in particolare lo spiedo, non è quello che serve per fare la griglia, gli spiedini, ma è un'arma con in cima ad un bastone una punta di ferro. Gli usberghi, anche qua ricordatevelo perché poi lo troveremo tantissime volte, comunque avete la nota, è un'arma di difesa, arma tra virgolette, perché è una cotta di maglia, una specie di lunga camicia e serve proprio per proteggere dalle frecce, dagli altri colpi. E abbiamo anche i gonfaloni attaccati alle lance. I gonfaloni sono dei vessilli, delle bandiere rettangolari in questo caso e sono appesi ad un'asta. Ma, vi ricordate, l'avversativa è sempre importante, è sempre segno che qualcosa c'è. Le colonne non potrebbero contare, ce ne sono tante che il numero non sa, quindi Oliviero non riesce neanche a contare il numero di colonne di nemici. Dunque, dentro se stesso ne resta assai turbato. Ecco, il primo, il primo sentimento che viene, cui si accenna, ovviamente non viene descritto, è il il turbamento, l'ansia che che prende il nostro il nostro cavaliere, quindi Oliviero. Ma, Oliviero, adesso lo vediamo subito, nasconde quest'ansia e si rivolge ai suoi invocando l'aiuto di Dio e incitando a non abbandonare il campo. Guardate cosa dice. Prima abbiamo così come egli può, cala dal poggio al basso e viene dai francesi e ogni cosa narra. Abbiamo la stanza successiva, non riesco a scendere. Siamo alla stanza successiva, non vi leggo più la numerazione. Disse Oliviero Il pagano ha veduto, nessuno in terra ne vide mai di più. Noi abbiamo davanti centomila con scudi, elmi allacciati e i bianchi usberghi chiusi, lance dritte, lucenti, spiedi bruni. vedete, ripete la descrizione di quello che ha visto. Allora, prima è come se l'avesse pensato tra sé e sé, adesso lo dice ai suoi compagni d'arne, ma in realtà questa è una modalità che il giullare, il cantore o colui che la composta usa ed è tipica dell'epica, l'abbiamo già visto lo scorso anno con L'Ilia dell'Odissea, cioè la ripetizione di a volte addirittura degli stessi termini attraverso quelli che vengono chiamati gli epiteti formulari, ma anche in questo caso la descrizione. Vedete che non viene ripresa con le esatte parole, però il concetto è quello. Perché? Perché essendo il discorso inizialmente orale, poi viene messo per iscritto serve alla memoria del cantore avere delle ripetizioni, ma serve anche a chi ascolta, che magari si è distratto oppure è arrivato un attimo dopo quando le cose erano già iniziate. I ritardatari c'erano anche allora, è mica soltanto adesso e io sono una di quelle ammetto. Quindi, le ripetizioni servono a quello. Battaglia avrete quale mai non ci fu. Da Dio signori vi venga ogni virtù. Restate in campo perché non siamo battuti, dicono i franchi, maledetto chi fugge, anche a morire non mancherà nessuno. Ecco, vedete, viene subito messa in evidenza quello che è il valore militare. Quindi, il valore dei paladini, dei cavalieri, dei nobili è quella della fedeltà. Fedeltà agli ideali del gruppo e soprattutto alla patria. Quindi, vedete, l'argomento guerriero è sempre molto presente. Anche a morire non mancherà nessuno, quindi l'idea è che la morte è veramente molto presente. L'assa successiva, sempre Oliviero protagonista e parlante. I pagani hanno gran forza e i nostri franchi mi pare che siano pochi. Compagno Orlando, suonate il vostro corno, il corno è l'olifante tratto da un corno di un elefante. Carlo Ludrà con i suoi farà ritorno. Orlando risponde sarebbe agire da folle nella mia Francia io perderei il mio nome. Vedete, viene ribadito il concetto appunto dell'onore della mortipatria, la mia Francia, la sua regione. Orlando non può fare questa figura Orlando però Oliviero mentre con l'esercito parla in un modo con Orlando mostra la gravità della situazione. Orlando continua dicendo che di Durendala è la spada di Orlando che viene parafrasata in modi diversi. È stata donata da Carlo Magno ed è molto importante perché Durendala diventa una sorta di simbolo nel senso che è l'arma che ricca offesa è l'arma con la quale Carlo scusate Orlando uccide i nemici ma nello stesso tempo nel pomo della spada sono conservate le reliquie dei santi quindi viene messo insieme l'aspetto guerriero e l'aspetto religioso io combatto in nome della fede scusate era la preside allora siamo arrivati a Durendala vero io darò gran colpi l'arrosserò fino all'elsa d'oro l'elsa è una parte della spada che serve per proteggere per proteggere la mano e per evitare poi quando la spada è nel fodero che scivoli dentro sono giunti ai valichi con l'ordanno i felloni giuro che tutti sono dannati a morte ecco felloni significa coloro che hanno tradito compagno Orlando l'olifante suonate Carlo Ludrà farà i franchi tornare coi suoi baroni il re ci aiuterà guardate qui abbiamo la la ripetizione molto vasta per quello che dicevamo prima e abbiamo anche compagno Orlando che è esattamente l'epiteto che Oliviero ha usato nella nella stanza precedente aveva detto compagno Orlando suonate il vostro corno compagno Orlando l'olifante suonate quindi vedete la tecnica che che abbiamo visto risponde Orlando al signore non piaccia che i miei parenti per me quindi la mia la mia stirpe per me siano biasimati nella parte successiva comincio a leggervela qui e disonore ne abbia la dolce Francia quindi si preoccupa Orlando del dei suoi della sua stirpe e della Francia quindi il senso dell'onore il senso della della fedeltà lui non ha paura della morte affronta la morte ma pur di salvare il suo onore prima darò gran colpi con Durendala la buona spada che tengo cinta al fianco tutto vedrete il Brando insanguinato vedete che Orlando Brando è un sinonimo di spada Orlando si affida appunto alla sua spada qui avete una miniatura francese nella quale vengono vengono raffigurati proprio questi episodi si sono condanno qui pagani adunati giuro che a morte sono tutti destinati non vedete abbiamo i puntini puntini perché vengono saltate alcune alcune lasse Orlando è prode e Oliviero è saggio qui vengono delineate le figure diverse dei due cavalieri perché Orlando è prode è valoroso rappresenta appunto la nobiltà la nobiltà guerriera e quindi diciamo è un po' la voce del coraggio eroico la voce del cuore e la voce del sacrificio di sé mentre invece Oliviero è saggio quindi Oliviero rappresenta la voce la voce della della ragione ma Orlando non può ascoltarlo hanno bravura meravigliosa entrambi perché a cavallo si trovano e in armi anche a morire non schiveranno battaglia son pro di conti le parole sono alte ora i pagani con gran furor cavalcano disse Oliviero scusate ve lo leggo così perché non riesco più Orlando un po' guardate son qui vicini e troppo lungi e Carlo voi l'olifante non voleste suonare se il re qui fosse noi non avremmo danno guardate a monte verso i valichi d'aspra sono verso i pirenei e vedete come trista è la retroguardia chi questa fa e non ne farà più un'altra risponde Orlando non dite enormità sia maledetto il cuore che s'abbatte al nostro posto noi rimarremo in campo da noi verranno i colpi e il battagliare bene legate anche scusate leggete anche la parte a pagina 581 è l'analisi ma in realtà quello l'ho già fatta ve l'ho fatta io però guardatela ancora bene e poi potete guardare anche l'ultima lassa che avete a pagina 581 dove c'è lo scrivere bene la prossima volta faremo la lirica provenzale ciao ragazzi ciao